Galattici amici ma soprattutto galattiche amiche per voi news galattiche sono qui con il numero due del nostro canale papà paesiello comunque siamo qui con il numero due dicevo del nostro canale papà paesiello per darvi un'informazione importantissima nella news galattica della madonna se il 27 di maggio di quest'anno ricordate il 27 maggio di quest'anno sarete dalle parti di cinisello balsamo in provincia di milano con il vostro con la vostra astronave galattica che ci troviamo al warpstone di cinisello in via monte nevoso 27 ci sarà un bellissimo torneo di age of sigmar a 2000 punti organizzato dagli amici della lega del caos amici tuoi caos amico mio sicuramente quanti punti 2000 punti 2000 fottuti punti incredibile uno contro uno dalle ore 9 alle ore 18 del 27 maggio 2000 2018 e potrete confrontarvi con tutti quanti gli altri in che anno siamo viaggiando nel tempo mi perdono quindi se siete da quelle parti volete una sfidona 2000 punti per quanto riguarda age of sigmar e vale per la lega caos non mancate al warpstone di cinisello troverete un sacco di avversari agguerriti pronti a sfidarvi e a divertirvi tutti insieme alla prossima grazie a tutti Grazie per la visione!